Quando abbiamo visto la prima volta, almeno io, c'era qualcuno che non era favorevole. Hai visto i Manesky, non c'era il dubbio. Voi avevate anche dei dubbi. Avevano tutto. Le canzoni, il modo di cantante, il gruppo, l'insieme. Micidiali, fortissimi. Ti saresti immaginata che avrebbero fatto quello che poi hanno fatto? Assolutamente sì. Se non ha scommesso, ci avrei messo i soldi. Sì, non c'è dubbio. Tra l'altro però l'edizione che loro hanno perso è quella che ha vinto, diciamo che sono arrivati i secondi. In realtà l'hai vinta tu poi con un altro artista. Sì, solo perché io ho scelto per l'ultimo, e siccome chi vota è il pubblico, e purtroppo sulle canzoni nuove un po' di lavoro va fatto, ho fatto fare a Licitra 4-5 pezzi micidiali nel mondo. E su questo lui, siccome cantava, cantava bene, perché poi sai, cantare bene non vuol dire aver successo, è un'altra cosa. Certo. Il successo è un insieme di cose, non è solo ragazzi. Cantava bene, è stato più popolare, ma non importa che i ragazzi potessero fare successo, non c'era dubbio.